e ciao a tutti ragazzi sono karen appena svegliato dall'oltretomba e anche se mi sento totalmente sfortunato ma proprio sfortunato e maniere oscene andremo a provare a pullare brolin prima però c'è questa multi free sul banner nuovo la proviamo anche se comunque è sicuro che è un 0 ssr totale però la proviamo e infatti come dicevo mi sento proprio sfortunatissimo cioè questo sarà proprio uno di quei video shaft brutali però ogni tanto ogni tanto si deve fare e niente raga quindi già la prima è andata male disperati disperatissimi andiamo avanti purtroppo tra poco devo anche allargare l'inventario perché ho finito gli slot nella disperazione proviamo questi step la disperazione più totale vabbè questo mi sta trollando sicuro e fiamma troll ma anche l'ssr troll e purtroppo cioè si vede proprio che troll già me lo sento che troll purtroppo la mia fortuna è finita purtroppo così è mi piacerebbe avere un po più di fortuna ma ho finito la fortuna un ssr un troll questo è un altro troll mi sta proprio trollando vabbè guarda mi viene voglia di piangere veramente non tutti troll roberto che quando esce roberto è sempre qualcosa di sbagliato eh guarda margus tutti hanno uno guarda cioè è proprio mamma mia che brutto questo è garantito quindi deve uscire per forza qualcosa brutto proprio a me mi sento proprio deluso uno solo neanche a dire più di uno è brutto vabbè cazzo però c'è 3 ssr 3 neanche un rate up c'è vabbè e no è corretto vuota vabbè sto brolin non l'ho preso nelle ghiatte l'ho preso proprio nel culo sto brolin vabbè un pick up player che sicuramente purtroppo non sarà quello che serve a me però ci abbiamo provato ho provato la tecnica del pianto segreto ma non ha funzionato ci ho provato ho provato la tecnica del pianto segreto fino all'ultimo secondo ci ho provato proprio hardcore purtroppo un cazzo di niente veramente un cazzo di niente ci ho provato fino all'ultimo cioè gli ssr sono usciti eh voglio dire su 4 step ho preso 3 vabbè 3 ho preso 2 step cioè non è non era male ma no no good non penso che c'è proprio quello che serve a me però un altro 2 la speranza 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 uh dai eh raga niente brolin non brolin ha detto no a balzoia brolin ha detto no a balzoia ci ho provato è finita bad molto bad e vabbè raga non si può sculare sempre l'arcobaleno del vicino è più verde e vi ricordo di stay green stay strong perché anche se queste cose succedono e sono brutte molto brutte dovete stare positivi e dovete mantenere un atteggiamento positivo verso la vita non dovete buttare la tastiera giù dalla finestra come sto per fare io con calma non è successo niente è successo qualcosa non è successo niente tutto ok baci e bacioni per quello che riguarda questa giornata mi diciamo che ho fatto guzman bond bond 4 se un giorno lo renderanno ultra latente avrà un senso se non lo renderanno ultra latente però ho fatto guzman bond 4 cioè lo maxi bond è il buono e quindi per oggi è tutto ci becchiamo ci becchiamo quando un giorno passerà la depressione semmai passerà ok ho cambiato idea mi sento sperperona stamattina ho deciso di dare gli altri 250 dreamable molto più di quello che immaginavo cioè sto buttando 500 dreamable nel cesso proprio totalmente semplicemente per prendere brolin che non mi amera niente assolutamente niente nella vita e che butterò nel cesso probabilmente dopo tre giorni quindi sto provando dai cioè più che altro sto rusicando non sto provando perché dire che sto provando è follia ok ricerco baleno troll pure cioè neanche a dire me ne escono due troll pure ma quello ti deve venire un tumore nero ma proprio un tumore di quelli là proprio bastardi di quei tumori proprio che devi morire di infarto pezzo di merda Roberto cioè voi non lo vedete perché c'è la faccia Roberto cioè io sto prendendo tutti gli SSR di Cristo ma non sto prendendo l'unico SSR che dovrei prendere cioè è incredibile come cosa retap proprio sta sega di minca retap ok già stiamo andando una carica proprio neanche fake non ci può neanche sperare nel fake qua ok siamo a una media di non so neanche io quanti SSR perché sono usciti siamo a una media proprio sbagliata ok ora sto iniziando a sfigare la ruota sta iniziando a girare male ok le ultime due estrazioni dopodiché finisce la ruota finisce il giro finisce tutto chance cose eccetera eccetera vai vuota cioè proprio più vuota dico sì ci vuole Cristo cioè tra poco escono proprio i boo va bene ultima proprio ultima ma ultima davvero cioè ultima che più ultima non si può rich arcobaleno rich arcobaleno rich arcobaleno neanche mi sa chi la tua gamba questo è un altro cesso della Pennsylvania ok due uno solo ma come cazzo si fa ma come cazzo si fa maronna non voglio neanche guardare non voglio neanche guardare ma porco demonio tutti li ho presi tutti tranne quello che devo prendere ma come si fa si sto buttando una marea vabbè porca vaffanculo va sto gioco di merda io pure che ci butto tempo ma vaffanculo a tetto a mamma va granda troia vabbè mi sto mi sto tiltando mi sto proprio mi sto salendo proprio lo sclero mi sto salendo proprio mi stanno salendo proprio i 40 minuti non i 10 minuti i 40 minuti mi stanno salendo porca puttana bastarda mi stanno salendo come si fa ma come si fa ma realmente ma come si fa ma una spiegazione logica ci sta qualcuno riesce a darmi ho preso più retappi o che cristo sulla croce sto sputtanando dreamable di 3 mesi perchè mi sta salendo l'esaurimento nervoso sto sputtanando dreamable di 3 mesi porca puttana bastarda senza niente sei indecente veramente è uno schifo per la morte di dio tu non hai tu dici vabbè ma tu c'hai un raid di ssr non ti esce manco un ssr ma sei sfigato a merda gli ssr escono il problema è che non esce un cazzo di quello che serve a me è brutale è brutale ma hai freccia aperte ma che boh ma che cos'è ma sei serio cioè ma che cos'è dai un altro ma vaffanculo pure tu sta troia ma vaffanculo va vai a vendere il bing bastardo oh oh due ma vaffanculo vai ma vaffanculo tre boh ma porto demonio ma come cazzo si fa tutto sta uscendo tutto tutto sta uscendo tutta la madonna di dio sta uscendo tutto il creato tutto ma non sta uscendo quello che deve uscire due me ne divida non uno bastarda due esatto due ma vaffanculo turan ma vaffanculo l'altro pascal ma che porco ma che padonna cristo ma come si fa ma che cazzo no ma è impossibile cioè boh 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 due due mi ne da lui io piezzo e merda ma vaffanculo cristo vengoriandoli cose non esce niente ma vaffanculo cioè io ho buttato ho appena buttato 700 800 non lo so manco io quante ne ho buttate ho buttato una marea di dream una marea stavo a 1.4 no è indecente cioè la cosa è indecente è indecente un altro un altro dio parco vabbè ah no vabbè va vaffanculo ma vaffanculo ma vaffanculo ma vaffanculo ma vaffanculo ma vaffanculo ma come si può fare ma ho preso più SSR io che Cristo ma vaffanculo sto gioco di merda ma vaffanculo